La sua auto ha prima sbandato e poi si è ribaltata diverse volte, sbalzandolo all'esterno dell'abitacolo senza lasciargli scampo. E' deceduto così un uomo di 29 anni di andria questo pomeriggio nei pressi della borgata di Loconia, mentre percorreva in direzione Canosa, la strada statale 93. Il giovane è stato rapidamente soccorso dall'intervento di due equip sanitarie del 118, una India proveniente da Canosa ed una Mike proveniente da Spinazzola, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima era da sola a bordo della sua auto, di cui avrebbe perso il controllo per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale. La vettura ha terminato la sua corsa a decine di metri di distanza dalla carreggiata in un uliveto. La strada statale 93 si conferma però in quel tratto una delle strade più mortali e incidentate di Puglia solo 20 giorni fa. Altro scontro mortale con auto ribaltata dopo l'impatto con un trattore in cui perse la vita un trentenne, mentre qualche giorno prima un furgone fuori strada con un ferito ma la scia di sangue è davvero molto lunga.